L'obiettivo di ogni sportivo è portarsi a casa la medaglia d'oro, ma ci sono vittorie che valgono molto di più. Sono quelle che in questi giorni hanno conseguito molte società locali che hanno deciso di perorare la causa degli ospedali e dare il proprio contributo in questa dura battaglia che ci vede tutti uniti per combattere un nemico di nome coronavirus. Tra le prime realtà a fermare ogni attività in tempi ancora non sospetti c'è il CSI Pesaro Urbino, che già da prima dell'imposizione del decreto aveva stoppato le proprie manifestazioni e i propri corsi di avviamento allo sport e ginnastica per adulti, così come la bocciofila San Cristoforo, che ha chiuso a doppia mandata l'impianto di via Castelfidardo già dal 2 marzo, una settimana prima quindi dell'obbligo imposto dal governo. Oltre alla lungimiranza nelle scelte, CSI Fano e bocciofila San Cristoforo sono accomunate anche dal nobile gesto compiuto nei giorni scorsi, quando grazie alla generosità dei propri tesserati e dirigenti hanno devoluto delle somme alle strutture sanitarie locali. Nel caso del CSI è 1.600 euro la cifra che grazie anche al contributo di Onfalos, l'ente presieduto da Marco Pagnetti ha potuto destinare all'azienda ospedaliera Marche Nord, mentre 500 euro è quanto il sodalizio di Paolo Marchionni ha versato nelle casse del Santa Croce, tramite concommercio, somma pari alla quota di iscrizione degli atleti alle gare di marzo e aprile, che ovviamente sono state annullate. Nonostante lo stop forzato, dunque, lo sport fanese continua a far parlare di sé, confermandosi un valore aggiunto della città, grazie a delle realtà in grado di raggiungere obiettivi importanti e ottenere vittorie che valgono molto di più di una medaglia d'oro.